musica bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono xuner amore mio porca miseria hai guardato twitter cavoli due se proprio era lì che non vedeva ragazzi mamma mia è arrivata pochissimi minuti fa una notizia incredibile su twitter interessantissima su cosissima ragazzi su twitter sulla pagina ufficiale di fortnite su twitter è stata pubblicata twitter è stata pubblicata un'immagine ragazzi di due skin che verranno regalate ragazzi brava brava ragazzi state pronti a vederle 3 2 1 no ho sbagliato immagine 1 ragazzi queste che le avevamo già viste qualche giorno fa in più di un video e non capivamo bene se erano le skin del twitch prime se erano le skin che arrivavano segrete se erano le skin che erano andate a fare la spesa al supermercato no ragazzi queste due sono le skin che verranno regalate nella patch come fai a saperlo come fa a saperlo ci voglielo ho detto giuro non glielo ho detto che culo dammi tre numeri a come fa a saperlo nella patch 5.10 che arriverà probabilmente in questa settimana non abbiamo capito bene quando ma ragazzi attenzione non le riceveremo tutti queste skin chi le riceverà quelli che hanno salva al mondo brava quelli sa tutto tutti quelli che hanno il pacchetto fondatore di salva al mondo con l'arrivo della nuova patch a te ti piacciono queste skin lo stai vedendo vederlo giocato giocarlo dici beh ragazzi questa è una mega news per chi non lo sapesse adesso lo sa un'occasione in più ovviamente per comprare salva al mondo anche perché è scontato del 50% quindi ragazzi stanno spingendo davvero tantissimo per farvelo comprare io un pensiero ce lo farei anche perché fate un bel po di v bucks gratis noi ci vediamo in live ciao 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 ciao